Il mio primo impatto con Just Dance 3 è figo. Allora, il mio primo impatto con Just Dance 3 è stato a prova di bomba, direi. Non è stato difficile imparare i meccanismi del gioco, ma diciamo che è stato abbastanza impegnativo e stancante. No, non è stato difficile imparare i meccanismi del gioco, però è stato abbastanza faticoso e stancante. Imparare i meccanismi del gioco? Io copiavo da Veronica, quindi non c'erano problemi. No, è molto facile. Penso che tutti possano giocare a Just Dance 3. Diciamo l'esperienza di Ballando con le Stelle, per me sì, mi ha aiutato parecchio, anche perché mi ha aiutato a sciogliere, diciamo. Allora, aver partecipato a un programma come Ballando mi ha aiutato a giocare a Just Dance. Sì, perché prima di Ballando ero un tronco, quindi però penso che anche chi è un tronco da casa può imparare comunque a muoversi con questa piattaforma di gioco. Invece per me l'esperienza di Ballando con le Stelle mi ha aiutato, diciamo a sciogliermi, più che altro per la timidezza. Sì, la colonna sonora di Just Dance 3 mi piace moltissimo. Diciamo che è abbastanza alla moda, è abbastanza al passo con i tempi, quindi diciamo è alla mano di tutti. Le canzoni di Just Dance 3, la colonna sonora è attuale, e anche se Barbara Streisand la vedevo molto dura, molto ardua, però molto belle, nuove. La colonna sonora di Just Dance 3, è pezzi molto attuali, anche se Barbara Streisand l'ho vista un po' ardua, però belli. Io a Just Dance 3 gioco con mio fratello e sicuramente con mia madre e mio padre, anzi, questa volta lo proporrò anche ai nonni, sicuramente. E allora, a Just Dance 3 giocherò sicuramente con mio fratello e i miei genitori, e sicuramente questa volta farò provare anche questo gioco ai miei nonni. Io ho un appello da fare, nonno Nino, tocca a te. Just Dance 3. Allora, ballare a Just Dance 3 con André è stato... Diciamo che non ho mai ballato insieme a lui precedentemente, e stavolta è stato figo. Sì, è stata una bellissima esperienza, è anche un modo di interagire anche con il nuovo amicizio magari che uno può fare, inviti a casa gente e impari a ballare assieme, no? Qualche gomitata ogni tanto. Sì, ogni tanto arrivava qualche cazzotto da parte sua, però sono esperienze. Allora, usare la modalità Just Created è stata una cosa innovativa e da proporre, secondo me, anche ai ballerini professionisti, perché magari è un nuovo metodo di studio, perché anche da casa uno può allenarsi e rivedersi e proporre agli altri. Allora, provare la modalità Just Create e fare una mia coreografia... Aspetta, Andrea, hai visto la coreografia che ho fatto? No. Andiamo, ma?